Ciao a tutti, da Mirko Casagrande al microfono di I Love Australia. Oggi con un nuovo podcast, un articolo inviato da Chiara, che ha insegnato italiano in Australia, a Melbourne, come assistente linguistica per nove mesi in una scuola superiore. Vi leggo l'articolo. Ciao a tutti. Ormai di giovani italiani che portano per il Down Under è pieno, ma credo che ogni storia abbia la sua unicità. Spero di riuscire a trasmettermi almeno una parte dell'incredibile emozione che ho provato per quei fantastici nove mesi insegnando italiano all'estero. O meglio, all'inizio non li avrei certo definiti fantastici. Ora vi spiego. Dopo due titoli ottenuti con impegno e sacrificio, ma anche con la consapevolezza della loro scarsa fruibilità, se non in termini di appagamento personale, laurea in lettere e diploma di conservatorio, mi sono trovata, come tantissimi, alla disperata e vana ricerca di un lavoro in Italia. Dopo mesi, la botta di fortuna. Vinco un posto come assistente linguistica di italiano in Australia e ad aprile 2012 ho preso il mio bel aereo e sono finita dall'altra parte del mondo, a Melbourne, pronta alla grande sfida. Non so come avreste reagito voi, ma per me, abituata alla tranquilla, pulita e ben servita a Brescia, è stato un vero shock. Mi sono trovata a vivere in un paesino sperduto nella natura selvaggia, dove si guida per chilometri prima di finire in un altro paesino. Oltre a dover arrangiarmi da sola, a trovarmi una casa usando una lingua che non parlavo benissimo, ho anche sfidato la mia paura per animali e insetti, dovendo convivere con grossi ragni pelosi, topi e lumaconi. Mi sono scontrata con una mentalità e una cultura molto diversa dalla nostra. Come sapete, all'inizio è stato difficile, ma vivendoci completamente immersa, alla fine ne ho colto tantissimi lati positivi e, guarda caso, i numerosi nostri lati che sarebbero da rivedere. Esattamente opposti agli italiani, che sarebbero, oh caspita, andrà malissimo, pensa che cosa succede poi, questo e quello. Oppure, ti consiglio vivamente di fare questo, la zia insiste inoltre che tu faccia quest'altro, mentre la nonna dice che puntini puntini. All'inizio inoltre ho sofferto tanto la solitudine, dato che non avevo alcun amico in quel piccolo country town e le mie uniche frequentazioni erano i colleghi a scuola. Non ero abituata al buio che cala in queste zone la sera, non ero abituata a tornare in una casa gelida dove non c'era nessuno ad aspettarmi. Non ero abituata a non avere la possibilità di uscire e scegliere un locale dove vedere gente e divertirmi. Ci è voluto tempo perché il paese entrasse in me e io in esso, ma quando è successo non avevo più dubbi. Lì ero finalmente felice. Come mai ero stata in vita mia? La splendida famigliola di cui sono diventata vicina di casa, la comunità locale e la scuola erano diventate la mia nuova famiglia e la gente così amichevole mi ha fatto sentire a casa. Per la prima volta in vita ho avuto uno stipendio che mi permettesse di vivere dignitosamente senza chiedere un centesimo a nessuno. Mi sono quindi regalata tre super vacanze per scoprire alcune parti dell'Australia, la Great Ocean Road, il Queensland e il Red Center. Semplicemente stupendi. Ultima cosa. Ho scoperto quanto mi piace insegnare italiano in Australia. In Italia ne ho avuto la conferma appena sono tornata, ma è stata in questa piccola scuola secondaria australiana che mi sono innamorata di questo lavoro. L'impegno richiesto era tanto, ma dava anche tante soddisfazioni. Ho avuto anche l'onore di suonare nell'orchestra del musico che la scuola organizza ogni anno, coinvolgendo diversi professori e un centinaio di studenti. Un'esperienza unica. Non ho però mai dimenticato che chi dall'Italia mi pensava con affetto e regolarmente ho scritto una sorta di diario di bordo, cosa che consiglio di fare a chiunque decidesse di partire, sia perché permette di coinvolgere chi è lontano, sia perché rimarrà sempre un ricordo della nostra avventura. Non so, forse sono stata solo fortunata, ma dentro di me ho fortemente impressa quella vita e il mio sogno è di riconquistarla. Un giorno. Ora sto lavorando, sistemando le varie carte necessarie per poter frequentare un corso abilitante all'insegnamento a Melbourne. Incrociate le dita per me, vi auguro di trovare la vostra strada, non rassegnarvi. All the best, Chiara. Grazie mille Chiara per il tuo articolo e buona fortuna con i tuoi studi e la tua nuova vita in Australia. Un saluto a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao.